Avete visto, abbiamo appena percorso l'ultimo ritilio della 66esima Caffèo Cidia dei Gasperi. Sarà quest'anno un percorso molto interessante perché è un classico diciamo, perché parte comunque da Bassano e da Ospedaletto e da Sugano in poi si arriverà qui a Pergine. Dove i ragazzi dovranno percorrere un circuito di 20 chilometri caratterizzato da una salita piuttosto impegnativa, in età la penna, per poi arrivare appunto a Pergine, nell'ultimo ritilineo di 250-300 metri in leggera falcipiano. Questa è l'ultima parte del primo pezzo di salita, spiana un pochino dopo queste ultime due curve e poi rampa per 600-700 metri verso il Gran Premio della Montagna. Qua una picchiata verso Pergine. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I'm so, I'm so